Scrivete, se avevi bisogno di qualcosa, facciamo sapere. Eh, signora Lina, vanno a Treviso e non stanno emigrando. Il 1978 fu un anno eccezionale per me e la mia famiglia. La nostra vita cambia radicalmente. Dai, se solo questione d'abitudine. C'è una raccomandata per signor Giordani Claudio? Sono io. Tu non riesci neanche a immaginare quello che vedo io ogni giorno. Comunque hai ragione te, devi fare un'attività pomeridiana. Il rugby non è uno sport, è una filosofia di vita. Biglietti pa'l cinema. Con le sporcherie esposte così davanti a tutti. Vergogna. Ma tu le donne non le sogni mai. Tutto il resto, passai in secondo piano. Madonna che occhi. Non mangia più? Cosa stai facendo? Provavo un placaggio. Guarda, guarda, guarda che occhi sbattuti. O io che problema c'avete? Cosa vuoi capirne tu dell'amore? Più cercavo di non pensarci, più lei mi chiamava. Fai in modo che possa incontrare Millie. Tu sei innamorata? Sì, ma lui non mi vede. Come se fosse invisibile. Se uno pensa tanto a una persona, poi in una qualche maniera questo pensiero può arrivare all'altra anche se lontana. Moma attenzione come se usa. Pagano! 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 Pagano!